Ben ritrovati, apriamo questa edizione del nostro telegiornale che ci porta al Teatro Alfieri di Torino dove con una sorta di convention all'americana Piero Fassino ha ufficialmente dato il via alla campagna elettorale per la sua riconferma alla guida del capoluogo piemontese. Un vero e proprio bagno di folla tra sostenitori e curiosi che hanno voluto semplicemente essere presenti per capire in prima persona quali progetti e quali obiettivi sono in cantiere per una città pronta ad essere governata per i prossimi cinque anni. Fassino vestito impeccabile nel maglioncino blu vagamente alla marchionne così come campeggia sui suoi manifesti sparsi per la città ha rassicurato i presenti. Sono sicuro che i torinesi apprezzano ciò che abbiamo fatto, mi batto per vincere come qualunque altra persona. Se capita il primo turno meglio, ma in ogni caso l'obiettivo è vincere. Riferimento agli ultimi sondaggi che vedrebbero i torinesi molto divisi tra i vari schieramenti al punto da far prospettare un possibile ballottaggio tra i due migliori uscenti dalle urne. Testimonial d'eccezione nei vari contributi che all'interno della mattinata si sono susseguiti, anche Tony Servillo che in un video parla di una Torino che in questi ultimi anni si è trasformata in modo radicale, il regista Paolo Virzigia, direttore del Torino Film Festival che ha parlato di una città dalla vivibilità eccezionale e dell'attrice Iaia Forte che ha parlato di Torino come di una città dall'aspetto notevolmente culturale. Noi proseguiamo, un rumeno di 32 anni è stato ferito a bottigliate da un marocchino di 40 anni e accaduto nel corso di una lite cominciata in una sala scommessa del centro di Torino e terminata in strada. L'aggressore si era poi allontanato ma è stato bloccato ed arrestato poco distante. La vittima trasportata in ospedale è stata medicata per una ferita al collo. E vendevano cocaina, eroina, marijuana su una bancarella come al mercato vicino ad una discoteca nella zona dei Murazzi del Po. Due senegalesi e un nigeriano tra i 27 e i 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale per spaccio, sequestrate dosi di stupefacente. E proprio a proposito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti vediamo altri due episodi che ci arrivano dal Novarese. Coltivavano marijuana in casa. In pochi giorni gli uomini della squadra mobile della questura di Novara sono riusciti a individuarli e ad arrestarli. Si tratta di due episodi distinti. Nel primo è finito in manette un uomo di 53 anni residente a Caltignaga, già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati legati alle armi. L'individuo aveva trasformato il garage di casa in una serra con pareti in cartongesso e impianti di illuminazione e di aerazione. In casa aveva due chilogrammi e mezzo di droga, oltre a fertilizzanti, lampade, ventilatori e strumenti per la semina. Un altro individuo, un 45enne, è stato invece arrestato a Novara nel quartiere Santa Gavio. All'interno di due serre aveva 38 piante di cannabis in avanzato stato di coltivazione. Una delle due serre era collocata in una vecchia cella frigorifera nello scantinato di casa. E nell'abitazione dell'uomo c'erano anche sei etti di marijuana essiccata pronta per il consumo. Importante operazione antidroga anche da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Novara che hanno fermato e tratto in arresto un albanese di 32 anni, Curi Ervis, irregolare e senza fissa dimora, conosciuto sulle piazze del Milanese per altri precedenti penali. In uno zainetto aveva oltre un chilogrammo di eroina, a casa, in Viale Monza, a Milano, un altro chilogrammo di stupefacente, tutto di buona qualità. Sequestrati anche 44 grammi di cocaina, valore della droga 120 mila euro e le indagini proseguono alla ricerca degli altri pesci grossi del Milanese pendolari dello spaccio. Parliamo delle realtà imprenditoriali in Rosa, il cui numero nella provincia di Cuneo è in costante crescita, come indicano i dati. Quasi un'azienda su quattro è condotta al femminile. Quasi un quarto della realtà imprenditoriale cunese parla al femminile. Nei servizi questa percentuale arriva a sfiorare il 60%. Partendo da questa realtà si è svolto presso il Salone d'Onore della Camera di Commercio di Cuneo il convegno da Alice, nel Paese delle Meraviglie, ad Alice in Carriera, ovvero il percorso delle donne nel mondo del lavoro tra pregiudizi e attestazione di merito, organizzato dal Comitato per l'imprenditoria femminile nell'ambito della rassegna cittadina 8 marzo ed intorni. Donne imprenditrici e professioniste, alcune con ruoli di vertice in enti e associazioni, si sono raccontate e confrontate sulla condizione femminile oggi all'interno dei vari settori sociali, richiamando l'attenzione sulla necessità che le donne continuino ad investire sul loro percorso di crescita personale. Argomento ulteriormente approfondito dalla scrittrice Maria Cristina Bombelli, intervenuta all'incontro con il suo libro Alice in Businessland, Diventare Leader, rimanendo donna, nel quale invita il mondo femminile ad affrontare il lavoro con maggiore determinazione e fiducia nelle proprie capacità. Questo sta a dimostrare che le donne sempre di più, anche in un'accezione più ampia, sono protagoniste all'interno delle istituzioni. 11 donne all'interno del Consiglio Camerale Cunese è un unicum, penso addirittura, in Italia. Il 25% delle nostre imprese oggi sono a conduzione femminile, la dice tutta. Quindi credo che cresceranno ancora nel tempo. Mi auguro che tante giovani donne possano trovare nell'ambito del terziario, dei servizi, dell'agricoltura, dell'artigianato, gli elementi per darsi una prospettiva anche di vita e trovare nell'impresa, come è stato nel passato, l'elemento su quale costruire il nostro futuro. Io credo che comunque questa mattina le testimonianze concrete di queste donne abbiano dato la possibilità alle giovani presenti di capire e di anche crearsi una forma mentale tale da poter a loro volta immaginare una prospettiva imprenditoriale. Il valore chiaro è sicuramente il crederci. Il crederci poi tradotto in un'autostima. Le donne hanno bisogno di credere in se stesse sempre di più, di non tirarsi indietro, in modo molto più semplice di cogliere l'attimo e di vivere quelle che possono essere le avventure, le esperienze che si possono presentare in modo molto positivo, perché un contributo maschilo-femminile è comunque utile, un confronto proprio per poter andare avanti sulle nuove prospettive. Professionalità, tanta preparazione, io lo vedo nel nostro campo, bisogna essere sempre più preparati e le sfide del domani sono sempre più difficili e bisogna mettere tanto impegno nel proprio lavoro e farlo con tanta passione. Io credo che la passione, la professionalità e la competenza siano delle carte vincenti per arrivare dove si vuole. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. L'ultima riforma varata dal governo avrebbe dovuto ulteriormente agevolare l'accesso agli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa alternativi al fallimento nell'ottica della conservazione del valore dell'impresa. Ma i risultati non sembrano essere stati quelli sperati. È stato facilitato il ricorso al credito bancario dell'imprenditore in crisi? A questa domanda si è cercato di rispondere a San Vensan in un convegno organizzato alla presenza di esponenti politici, della magistratura, delle banche, del mondo imprenditoriale, degli ordini professionali e del mondo della formazione manageriale. Durante il convegno dal titolo le imprese e le banche nello stato di crisi tra competenza, responsabilità e prevenzione che si è tenuta al centro congressi del Grand Hotel Biglia. Tra i relatori il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Gerardo Longobardi. A che punto sono i progressi sulla ricerca nel campo della sclerosi multipla? Lo abbiamo chiesto al direttore del centro di neurologia dell'ospedale San Luigi di Orbassano. La ricerca per la sclerosi multipla ha fatto enormi progressi negli ultimi vent'anni e ha permesso di cambiare completamente il mondo della sclerosi multipla e anche la vita dei pazienti. Solo per fare alcuni esempi, grazie alla ricerca, attualmente riusciamo a fare la diagnosi molto più precocemente di un tempo, riusciamo a farla con maggiore sicurezza e riusciamo a distinguere la sclerosi multipla da altre malattie. Inoltre i progressi sono stati enormi anche per quanto riguarda la terapia e anche per quanto riguarda la riabilitazione neuromotoria o la riabilitazione cognitiva. Negli ultimi anni c'è stata un'autentica esplosione di nuovi farmaci. Rispetto a 20 anni fa, quando non avevamo ancora nessun farmaco efficace, attualmente abbiamo più di 10 farmaci, i quali sono tutti efficaci in misura varia nella sclerosi multipla. Quindi questa ricchezza di patrimonio terapeutico è una grande opportunità per i nostri pazienti, perché possiamo cercare di dare il farmaco migliore per ogni singolo paziente. Purtroppo al momento non siamo ancora in grado di riconoscere per ogni singolo paziente qual è il farmaco più efficace e quindi siamo costretti a provare e in caso di inefficacia possiamo però cambiare. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione farmaci che stiamo usando ormai da 20 anni, sui quali si è raggiunta un livello di conoscenza molto approfondito. In particolare ne conosciamo l'efficacia che non è altissima ma è pur sempre valida e sappiamo anche con grande precisione i rischi che il paziente corre. Quindi avere la possibilità di avere un trattamento il quale abbia una sicurezza nel lungo termine in una malattia cronica come la sclerosi multipla è fondamentale. Inoltre dei farmaci che utilizziamo da moltissimi anni sono stati rimodulati e migliorati. Un esempio è ad esempio l'interferone beta con la nuova formulazione di PEG interferon il quale permette la somministrazione del farmaco non più a giorni alterni o tre volte alla settimana o ogni settimana ma bensì una volta ogni 15 giorni. Ancora una notizia di cronaca, un ordigno incendiario composto da una tannica di benzina, alcuni fili e un timer rudimentali sono stati trovati da un cliente davanti a un ufficio postale di Torino. L'allarme è scattato in via Bologna nel popolare quartiere Barriera di Milano. L'uomo non preoccupandosi del potenziale pericolo lo ha spostato prima di prelevare del denaro al postamat sotto cui era stato originariamente posizionato. Successivamente sono intervenute le forze dell'ordine che hanno sequestrato l'ordigno per analizzarlo. Al momento non sono arrivate rivendicazioni del gesto. Ci spostiamo tra le pagine di Langeroero e Monferrato.net per parlare dell'incremento record degli acquisti bio. Il 70% degli italiani è infatti disposto a spendere di più per i prodotti naturali. L'Italia detiene il record europeo di aziende agricole e biologiche. Sono circa 49.000 che coltivano un milione di etteri. La provincia di Iasti nasce come provincia del vino ed è giusto che il suo capoluogo ospiti ogni tanto la rassegna dei vini biologici. Gli acquisti di prodotti biologici confezionati fanno registrare un incremento record del 20%. Praticamente più di un italiano su tre dichiara di acquistare cibi bio o naturali. In totale sono 15 milioni le persone che, sottolinea Coldiretti, mettono nel carrello prodotti locali a chilometri zero. Il nostro paese conta 49.070 imprese biologiche in aumento del 12% rispetto all'anno precedente con la superficie coltivata superiore al milione di ettari. L'Italia inoltre detiene il record europeo sul numero di agricoltori biologici. Sono il 17% del totale, al secondo posto la Spagna con il 12% e la Polonia con il 10%. Grande successo per il Torino Jets Festival che è quasi alle battute conclusive. Domenica infatti si chiude con un programma di spessore. Il ricco cartellone che ha visto nelle varie piazze torinesi, sedi di concerto, migliaia di appassionati. Sentiamo uno dei protagonisti del Jets Festival, Roy Paci, e il suo direttore artistico, Stefano Zenni. Io sono qui, a parte già sono emozionato perché è una cosa meravigliosa il fatto di essere qui a Torino già come città, una città che è come una seconda casa per me, visto che ho vissuto tanti anni qui e a maggior ragione sono doppiamente emozionato perché salire su questo palcoscenico ormai è diventata anche una cosa molto ambita. Il Festival Jets di Torino ha creato un hype attorno a tutta la manifestazione talmente alto che copre non solo il piano nazionale ma ne parlano dappertutto. Quindi è un festival ormai su un ranking molto alto a livello internazionale ed è prestigioso stare qui su questo palcoscenico. Il coraggio di quest'uomo di andare oltre le barriere della musica, diciamo solo jazz, è incomiabile. Lui ha parlato come direttore artistico, ha detto che è il festival più importante, eccetera. No, Roy ovviamente non è la prima volta che viene qui al Torino Jazz Festival, l'abbiamo invitato, fa parte di una delle tante produzioni nuove che facciamo quest'anno. È un festival dedicato sia al rapporto fra le altre arti, jazz e cinema, jazz e teatro, jazz e fotografia, jazz e danza, jazz e letteratura, sia alla mescolanza di linguaggi. Questo festival dedica moltissimo spazio, adesso qui non diciamo tutto il programma, ma dedica moltissimo spazio ai giovani, sia sul main stage, sia al fringe, ma anche nell'orchestra tra l'altro che dirige Roy. E poi facciamo il grande primo maggio, una specie di festa, grande festa del jazz, che comincia alle 5 del pomeriggio, va avanti fino a mezzanotte, con orchestra e gruppi, c'è la cubana Iliancanizares, abbiamo l'Archipel che suona la scuola di Canterbury degli anni 70, Falzone che fa il Zeppelin e poi chiudiamo con gli incognito, quindi con il grande soul da finire in grande festa. Torino ha una grande storia del jazz, ha una grande storia del jazz, se questo festival è in quel solco e ovviamente, come diceva prima Roy, fa i conti con l'attualità, cioè col fatto che il linguaggio cambia, si amplia e quindi anche il festival si ampia, si trasforma e diventa sempre più ricco. Weekend che non può prescindere dalla cultura e dai tanti avvenimenti in programma nel capoluogo subalpino. Le nostre telecamere si sono soffermate sulla mostra e i capolavori di Matisse. C'è un'exposizione che è fatta a partire di chef d'oeuvre di la collection di Centro Pompidou, ha prestato i suoi capolavori che, giustamente, sono stati messi in mostra qui, non solo questi, ma anche abbiamo voluto mostrare davvero quello che potesse essere il contesto artistico che ci ha fatto nella procura di Matisse. per i paesi che non hanno il centro Pompidou. L'intensità di questa mostra è la traversata in un modo sufficientemente rapido e molto dente di quella che è stata l'intera carriera artistica di Matisse, misa in contexte, quindi dando la possibilità al visitatore di capire anche il suo tempo. è un'attraversata complessa di una panoramica davvero completa dell'arte moderna della prima parte del XX secolo. Ed è una mostra che colpisce soprattutto perché ci sono delle opere che sono estremamente forti. On commence avec le début della carriera di Matisse, e quindi la possibilità al visitatore di vedere tutto della carriera si parte da l'inizio. Ma che salle consacre un percorso cronologico e per ciascuna salle, diciamo, c'è una discussione del periodo essenziale del lavoro della vita di Matisse. Quindi si parte da movimenti come il fovismo, il cubismo, il cubismo per arrivare a una certa fiducia che ritornano alla figura negli anni 20-30, passando poi al surrealismo per poi arrivare al modernismo negli anni 50 per poi arrivare al modernismo negli anni 50, per ovviamente per l'abstraction con i papi e guachè del cubo che c'è e il movimento del support. E il y a, per esempio, il y a qualche chef d'oeuvre autour del cubismo, come Porta Fenietta a Colliù o un dei nus de dos che Matisse ha scultato e che sono dei oeuvri assolutamente essenziali che permette di vedere come Matisse ha abbordato una certa forma di stilizzazione e di radicalità durante la Prima Guerra Mondiale, che è stata una perioda sombra dove Matisse non era mobilizzato sul front, ma era molto inquieto e molto preoccupato. E il rencontra a questo momento Juan Gris, un jeune peintre espagnolo, con il quale lui non è andato a fronte, ma stava, diciamo, nell'aventura cubista. E questa perioda di interrogazione e di inquietude e quindi con Picasso c'è questa proprio di chef d'oeuvre di radicalizzazione, questa radicalizzazione che lo porta quasi verso l'abstraction come questo tableau Porta Fenietta a Colliù, nel quadro La Porta Fenietta di Colliù ci sono dei quadri estremamente interessanti perché ci sono praticamente delle strisce di blu e di nero che evocano l'idea della Porta Fenietta e quindi introducono fortemente l'idea dell'astratismo. Siamo nella sala degli odalischi, c'è questa odalisca del 1908, che è un'opera assolutamente bellissima dal punto di vista dell'avanguardia. che c'è anche la perioda di Morozov che davvero sono riuscita a assicurarsi queste opere icone del maestro. E ovviamente qui il maestro osa con i colori, i colori puri, il rosso, il verde e la stilizzazione e l'uso anche del nero. Ed è anche molto importante in questa sala e l'on vedo in questo tavolo come il utilizza di maniera molto osata la colori, le colori pura, il verde e anche un dessin abbastanza stilizzato e molto appogliato per il cerne noire. Io ho chiesto veramente accompagnare questa sposta in un catalogo inedito sul tema, che trae a la volta di questa confrontazione, di questo dialogo che Matisse ha con gli artisti di son tempo, e noi aggiungiamo alla fine di questo libro una antologia di lettere e di lettere, di testi e di testi, che permette di più scegliere e di più vivere, come Matisse è stato in dialogo con Picasso, con Aragon, ma anche con i miei amici, che sono anche delle lettere, che sono anche delle lettere, che sono anche delle riflessioni molto importanti sull'art di son tempo. E quindi penso che queste lettere sono state prese da alcune degli archivi Matisse, e quindi sono anche delle lettere che sono state prese da alcune degli archivi Matisse, come per alcuni articoli che non sono messi da alcuni italiani, e quindi c'è alcuni inediti. In effetti c'è stato, in questo rapporto profondo, è stata la campagna di Picasso, che li ha definiti il polo nord e il polo sud. In effetti dal punto di vista del temperamento Matisse che veniva dal nord della Francia, era più silenzioso, più riflessivo, più serio, mentre Picasso, questo spagnolo, era molto serio, e da l'altra parte del polo sud. E di l'altro, Picasso, magari non troppo estroverso, ma sicuramente la sua opera era decisamente estroverso, anche abbastanza carico di stranezze, lui come artista. Insomma, questo rapporto, devo dire, è fra i due, è stato un rapporto che ha contrassegnato la prima metà del XX secolo dell'arte moderna francese. E quindi, due non solo si vedevano regolarmente, non solo si confrontavano, non solo si facevano regali reciprocamente, ma andavano in visita l'uno nella sedia dell'altro, quindi ci sono stati, non solo, diciamo, dei rapporti vistesi, ma anche, a volte, appunto, dei confronti molto diretti. Ed è stato molto interessante che è stato proprio l'inizio del XX secolo che si è inventata questa relazione fra Matisse e Picasso, nel senso che ci sono stati anche tutta una serie di mostre che hanno proprio sono state tese a sottolineare questo rapporto, questa correlazione tra i due. D'altro canto, c'è anche qui, lo vediamo benissimo, grazie alle opere che il Centro Pompidou ha messo a disposizione qui a Torino provenienti dalla sua collezione l'Algerina, l'Odalisca algerina e la donna, appunto, di Picasso o l'Odalisca rossa e l'Odalisca di Picasso. E devo dire che Picasso è arrivato al punto di dire quando morì, appunto, Matisse, che Matisse gli aveva lasciato in eredità a queste Odalisca, e che la concezione dell'Oriente che Picasso aveva veniva proprio grazie a quella del Maestro. E' il momento del calcio con la Juventus, fresca di tricolore, che gioca ai restanti incontri del campionato. Alle porte il match contro il Carpi, ma è la testa che è già alla finale di Coppa Italia in programma a fine maggio contro il Milan. E' un bel effetto, anche perché è stata una rincorsa straordinaria iniziata dopo la partita di Sassuolo. Quindi, nessuno si immaginava che la Juventus potesse fare una cosa del genere. E' anche molto difficile pensare che un'altra squadra possa fare una rincorsa del genere e vincere 24 partite su 25. e quindi direi c'è da fare complimenti a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo dal presidente della società a tutti quelli che hanno lavorato con me e tutte le persone dentro Vinovo che hanno merito di questo successo, di questo quinto scudetto e soprattutto agli otto giocatori che sono ancora dentro questa rosa che hanno vinto cinque scudetti di fila. e quindi direi c'è soddisfazione, c'è entusiasmo, c'è euforia, però abbiamo ancora tre partite da giocare e soprattutto sono tre partite dove non bisogna abbassare la tensione e staccare la spina perché poi al 21 abbiamo un obiettivo importante che è quello della Coppa Italia e quindi bisogna farsi trovare pronti perché poi attaccare la spina in tre giorni è difficile quindi bisogna mantenere una buona condizione fisica, mentale e soprattutto cercare di chiudere il campionato e bisogna farlo perché è un dovere di chiudere il campionato in bellezza. No possiamo ci sarà la possibilità di provare anche un sistema di gioco diverso cioè diverso passando a quattro magari però allo stesso tempo abbiamo con recupero di Chiellini avremo Barzalli, Rugani, Chiellini ed Evra che eventualmente può fare il terzo difensore a Morata a Morata gioca ora cominciamo a parlare di mercato ci sono tanti buoni giocatori in giro in Italia e all'estero e quindi la società in questo momento qui innanzitutto bisogna pensare a finire bene la stagione bene nel senso della Coppa Italia e finire queste tre partite poi dopo la società si sta già muovendo però il mercato quest'anno sarà un mercato strano, lungo perché ci saranno gli europei quando ci sono sempre gli europei in mezzo direi che ci sono sempre delle sorprese i giocatori che vengano fuori bravi che magari alla fine li prendi però una cosa è certa che la Juventus farà di nuovo una squadra competitiva sia per il campionato italiano che per l'Europa non scordiamoci che il grosso la Juventus l'ha già fatto quest'anno le feste abbiamo l'ultima con la Sampdoria quindi è ancora lunga poi dopo bisogna mantenere l'attenzione perché noi bisogna lavorare su noi stessi e quindi bisogna migliorare queste partite vanno sfruttate al meglio per migliorare la qualità del gioco per migliorare la qualità del passaggio per continuare a avere una solidità difensiva perché bisogna continuare ad avere questa abitudine perché altrimenti a perdere l'abitudine si fa presto e dopo poi non abbiamo più tempo per riprenderle in vista del 21 siamo arrivati a vincere lo Scudetto con tre giornate anticipo e non era facile dopo che siamo partiti però noi abbiamo il dovere ripeto di queste tre partite innanzitutto quella di domani perché va vinta perché giochiamo in casa perché è la prima volta che giochiamo in casa dopo che siamo diventati campioni a Firenze e quindi domani bisogna vincerla e giocando anche un buon calcio e di conseguenza poi verranno fuori i numeri a me quello che mi interessa è che la squadra rimanga concentrata e attenta e lavori per la partita del 21 che sarà una partita molto difficile perché nonostante tutto il Milan con noi ha giocato due ottime partite sia all'andata che al ritorno e quindi noi siccome è un obiettivo importante per noi bisogna chiudere al meglio la stagione bisogna prepararsi per quello Diamo ora la linea alla nostra rubrica di carattere spirituale semi di speranza curata per noi da Don Moreno Filippetto Le letture della domenica di Pasqua di questa sesta domenica di Pasqua dell'anno C ci riportano in quello che è il tema centrale del periodo dopo la risurrezione del periodo cosiddetto Pasquale quello che ci fa attendere la Pentecoste ossia la discesa dello Spirito Santo le domande cardine sono sempre due come possiamo dire di aver incontrato il Signore Risorto come possiamo incontrarlo e la seconda che cosa cambia all'interno della nostra vita il Vangelo di solito tende a rispondere alla prima delle due domande e lo fa rimettendo al centro della nostra vita la centralità del messaggio di amore quel messaggio di amore che Dio offre in testimonianza al figlio vai e racconta loro qual è il mio volto che è il volto di un padre che ama i suoi figli e Dio è venuto su questa terra e ce lo ha raccontato se uno mi ama dice Giovanni nel Vangelo osserverà il padre mio lo amerà il messaggio la missione di Gesù è quella di far entrare ciascun uomo all'interno del circolo di amore che contraddistingue la Trinità un padre un figlio che si amano e questo amore è lo Spirito Santo che Giovanni chiama Paraclito e la realtà di questa unione profonda possiamo viverla anche noi chi vive all'interno di questa dinamica è colui che ha lasciato spazio alla voce profonda del proprio cuore che è la voce dello Spirito che Paolo dirà lo Spirito grida dentro di voi Abba Padre è quello Spirito che dentro di noi ci spinge a gesti di amore innanzitutto a riconoscere il gesto di amore ricevuto dal Padre ricevuto per mezzo del Figlio e poi a nostra volta essere noi promotori di questo messaggio di comunione verso gli altri e lì possiamo verificare se veramente il Signore Risorto lo abbiamo incontrato se il messaggio evangelico della carità della misericordia come tanto si affanna e con forza grida il nostro Papa Papa Francesco è al centro della nostra vita allora sì questo è testimonianza di un incontro avvenuto è dentro questo grido profondo del nostro cuore che poi deve tradursi in gesti concreti possiamo dire e verificare se il Signore Risorto lo abbiamo incontrato per davvero e gli atti degli apostoli gli atti degli apostoli ci dicono le conseguenze di questo di questo motore interno della nostra vita perché l'amore tra il Padre il Figlio che lo Spirito Santo che è dato a noi è il vero e profondo motore dell'esistenza personale è ciò che ci tiene in vita è ciò che ci tiene in piedi come esseri umani e quando questo capita allora non ci sono più circoncisi e incirconcisi non ci sono più persone del nord del mondo del sud del mondo persone che portano un certo o un altro colore della pelle che sono cresciuti dentro una cultura o dentro un'altra cultura allora il cristiano diventa esperto di umanità esperto di umanità colui che è capace a guardare dentro l'uomo il significato profondo della sua vita ossia un essere donato a se stesso da un amore più grande che è l'amore di Dio un essere che vaga su questa terra alla ricerca di una risposta rispetto a questo amore sì ti ha creato Dio e tu sei fatto per scambiarlo questo amore con Lui e di regalarlo alle persone che ti stanno accanto che ha vissuto davvero l'incontro come Paolo e Barnaba come la prima chiesa di Gerusalemme come i cristiani vivi di questo nostro presente allora diventano esperti di umanità perché guardando negli occhi delle persone che gli stanno incontro riescono a vedere quello che sono immagine di Dio Padre immagine di quel Cristo che è venuto sulla terra per regalare la vita la vita vera a ciascuno di noi come la pioggia e la niente scendono giù dal cielo si preannuncia una domenica di maltempo a Torino la città peraltro è già stata colpita da un forte temporale nella giornata di sabato che ha un po' rovinato la festa e i preparativi di quanti attendevano il primo maggio noi chiudiamo qui lo spazio a nostra disposizione dopo di noi Meteoroscopo di seguito tutti i nostri altri programmi grazie per averci seguito buon proseguimento di visione a voi tutti ben ritrovati da Giuseppe Davidis tempo piuttosto brutto per il primo maggio per la giornata di domenica infatti la perturbazione insisterà ancora anche sul nostro territorio comunque andiamo a vedere cosa succederà nel dettaglio cielo molto nuvoloso coperto con rovesci di pioggia la possibilità anche di temporali nevicate inizialmente sull'arco alpino anche attorno ai mille mille duecento metri però nel corso della giornata tra il pomeriggio e la sera la quota neve tenderà gradualmente ad aumentare cominceranno i fenomeni a cessare a partire dal pomeriggio sera dai ma a partire scusate la ripetizione dai settori più settentrionali vedete nuvole sì ma senza precipitazioni ultime precipitazioni tra i settori meridionali del Piemonte e la Liguria temperature in ulteriore calo soprattutto le massime sarà una giornata quindi piuttosto bruttina cari amici è tutto io vi auguro come sempre di trascorrere una buona domenica arrivederci partiamo subito dall'Ariete la sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta vi disorienta perché amate la chiarezza apritevi per primi e gli altri vi seguiranno un familiare vi darà consigli che vi torneranno utili Toro che dire di questo giorno che una serie di eventi sarà fonte di un certo benessere tanto per cominciare potete contare sull'appoggio degli amici qualsiasi sarà la vostra necessità loro vi saranno accanto Gemelli i problemi della famiglia vanno affrontati subito evitando inutili grattacapi e andando subito al nocciolo delle questioni per quanto riguarda l'amore potete abbandonarvi ai sogni più dolci con la persona amata Cancro vi siete stancati della solita routine ma per voi è semplice uscirne con la lettura di un buon libro o la compagnia di amici disinteressati cogliete al volo un'occasione improvvisa di svago Leone domenica tutta da dedicare al relax all'amore e alla famiglia non affaticatevi e quel che più importa non lasciate che l'armonia di coppia oppure familiare venga turbata da qualcosa che è stato tenuto nascosto per qualche tempo Vergine favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita saprete come muovervi in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione sotto gli influssi delle stelle armoniose torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni bilancia trovate anche altri modi per comunicare il vostro interesse e la vostra passione alla persona amata che non sia sempre quello di stare attaccati al telefono o di spedirsi sms Scorpione consapevoli della vostra simpatia e comunicativa riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi da amici vecchi e nuovi Sagittario siate sempre molto sinceri c'è qualcuno che potrebbe approfittare delle vostre confidenze c'è anche la possibilità di un affare inaspettato valutate bene tutti i pro e i contro Capricorno siete eccitabili focosi inconcludenti fate attenzione perché con poco rischiate di ferire la persona che amate una sciocchezza in questo momento rischia di accendere la miccia di una polveriera Acquario sarete particolarmente combattivi e determinati e questo vi aiuterà a risolvere alcuni problemi pratici siete inoltre favoriti da un certo fiuto negli affari che suggerisce di azzardare Pesci fate un piccolo viaggio in buona compagnia e vedrete che vi tornerà il buon umore molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno si affronterete la vita con maggiore leggerezza